E' oramai un punto di riferimento per Sky Sport, è considerata attualmente la giornalista più sexy d'Italia e sembra essere la ragazza perfetta. Parliamo ovviamente di Diletta Leotta, conduttrice della casa della serie B e super popolare su Instagram grazie alle curve mozzafiate o al sorriso contagioso che i tifosi ben conoscono. Finita l'anno scorso nel mirino degli hacker che avrebbero messo in rete alcune sue foto private, la Leotta torna ad essere bersaglio degli Eter, ora che spuntano scatti della bella conduttrice da giovanissima. D'Agospia ha pubblicato alcune immagini della 26enne di Catania di quando era poco più che un adolescente ricevute via mail da un fan. Come leggiamo sul sito di Roberto D'Agostino, il mittente sottolinea quanto sia cambiata nel corso degli anni e che adesso sarebbe addirittura irriconoscibile. È assurda la sua trasformazione nel prima e nel dopo, leggiamo, non corrisponde nemmeno l'apertura degli occhi, l'attaccatura dei capelli, le ginocchia o le caviglie, dulcis in fundo, la bella conduttrice non usa neanche il proprio nome di Battesimo, Giulia, ma preferisce Diletta in quanto più accattivante. Che fosse rifatta più di qualcuno lo sospettava da tempo adesso però ci sono le prove concrete e per gli amanti del gossip è che un'altra chicca. Pare che il fratello della giornalista sia chirurgo plastico e che sia stato proprio lui ad occuparsi della sua trasformazione. Non ci credo è un'altra ha commentato su Instagram una ragazza, qualcun altro ha aggiunto a tutto il viso rifatto e che ha le protesi e i glutei si vede a un miglio di distanza. C'è però chi è pronto a giurare che le foto incriminate della leotta da giovanissima e senza ritocchi siano un fake. Staremo a vedere se la diretta interessata vorrà svelare la verità o preferirà solvolare sulla questione.